Amici oggi proviamo a modificare insieme questi squishy per renderli ancora più belli e super kawaii Vediamo se ci riusciamo ma prima sigla YOLANDA SWITZ Hello everyone rieccomi tornata con un nuovissimo video come state spero tutto bene come avete passato la vostra giornata Spero bene ciao amici io sono YOLANDA SWITZ ed oggi sono tornata con un nuovo video che non mi ricordo se ho mai fatto in tutti questi anni di youtube credo forse una sola volta ma oggi andiamo a modificare degli squishy già fatti che in realtà non mi piacciono per niente e le andiamo a modificare con la panna finta con le pitture 3d quelle per gli squishy tantissime decorazioni che ho qui raga ma prima di iniziare questo video raga mi raccomando lasciate un bel like se vi piacciono anche queste modifiche qui oltre a quelle degli slime iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanella perché tutti i giorni trovate nuovi video alle 14.30 e alle 18 iscrivetevi anche al mio sito www.YOLANDA SWITZ.IT lo trovate in descrizione il link diretto andateci a cliccare vi rimando al sito dove trovate slime kit per realizzare i vostri slime fed a te adesso direi di cominciare perché sono curiosa di vedere se funziona questa modifica li dobbiamo assolutamente modificare raga perché sono davvero non belli non belli ma proprio zero la prima cosa che voglio modificare con voi vediamo è questo allora se vi siete persi lo scorso video andatelo a vedere ve lo lascio nella i delle info allora questa qui è da modificare proprio per forza e sono tecnicamente dei pancakes li andiamo a sbustare perché questi qua io li tengo sempre tutti perfetti nelle buste la prima cosa secondo me da andare a fare è ovviamente creare tipo una cremina creare qualcosina possiamo prima di tutto secondo me ricoprire lo squishy stesso con questo colore ok con questo colore qui che sembra proprio uguale coprire quest'ultimo e poi magari ragazzi trust the process nel senso che credete nel procedimento allora amici mi sono un po' avvantaggiata e ho pitturato tutto il mio squishy e sopra vedete già diverso vedete com'è bello ho fatto il burro sciolto con il giallo che è come se fosse proprio appunto fuso l'unico problema di queste pitture ve l'ho detto raga che ci vuole un bel po' per asciugarsi e neanche l'asciugacapelli vi aiuta cioè ci vuole proprio l'aria per farle asciugare completamente adesso per dargli un tocco un po' più realistico cosa faccio? prendo le puffy paint marroni le metto su un tovagliolo così faccio in questo modo e le vado appunto a picchiettare leggermente sopra il mio squishy come se fosse proprio diciamo la bruciatura voglio far vedere proprio gli sbruciacchiamenti del pancake devo fare realistico lo devo fare kawaii ora ci penso vado a ricoprire tutto lo squishy come se fosse cotto e poi magari vado a vedere se riesco a fare una faccina kawaii qua sopra mi faccio vedere quello che ho fatto fino ad ora eccolo qua questo è lo squishy dove è la faccetta eccola qua stavo iniziando appunto a mettere la panna finta che è questa lungo tutto il bordo almeno ci provo raga perché non è diciamo facilissimo lungo tutto il bordo metto appunto questa panna finta e poi lo vado a decorare lo vado a decorare con gli sprinkles o anche le ciliegine finte non lo so ora vedo un po' perché mi piace come sta venendo mi piace tantissimo sembra quasi una torta non sembra neanche più un pancake sembra quasi una torta ora vorrei sinceramente mettere un ciuffetto di panna qui in alto bellissimo mamma mia quanto è bello poi prendo questa ciliegina finta ce la vado a mettere no vabbè ragazzi raga raga quanto è carino gli sprinkles adesso assolutamente abbiamo questi sprinkles qui vado a mettere sopra voglio farvi vedere ora la differenza tra prima e dopo è bellissimo secondo me è veramente carinissimo e niente si meritava questa modifica perché secondo me questo squishy era troppo troppo solo era solo e non era capito ed è bellissimo ragazzi mi piace tantissimo come è venuto l'unica cosa che adesso ovviamente si deve asciugare allora cerchiamo di modificare questa fragolina allora la vado a scartare la fragolina è un po' anonima ragazzi eh questa fragolina è un po' anonima non mi piace molto allora io vorrei cercare di non la vorrei ricoprire devo dirvi la verità l'unica cosa che forse vorrei modificare è la parte verde e la andiamo a fare con questo quindi vado solo a modificare la parte verde per renderla in 3D perché ci sono anche dei buchini la tipo cioccolata che cola ma vorrei farla di un altro colore vorrei farla rosa ora vediamo un po' perché proprio cioccolato non mi piace tanto vorrei farla rosa e vorrei fargli una faccina cosa ho fatto come potete vedere ho ricoperto appunto la fragolina che però ovviamente si deve asciugare perché altrimenti dietro non la posso ricoprire perché poi la devo girare e quello che è venuto è questo ovviamente non ho ancora finito non ho ancora finito volevo fare un ciuffetto di panna qui ma rosa e fare anche diciamo un ghirigoro marrone con la cioccolata appunto qui no vabbè ragazzi a mettere gli sprinkles secondo me sono davvero davvero carini questo è quello che al momento è uscito le puffy paint si devono aggiustare i glitter magari li metto verdi qua sopra non lo so li devo mettere i glitter fatemelo sapere nei commenti secondo voi che li posso comunque modificare e aggiungere in ogni momento adesso lo vado ad appoggiare qui vediamo un po' ok facciamo ciuffetto qua guardate che bello raga poi ovviamente non puzza perché non è silicone quindi non puzza allora io non so se ci devo mettere qualcosa sopra o lasciarlo così non lo so ah ho questi sprinkles qua guardate raga con con le fragoline questo è quello che è venuto col ciuffetto di panna ovviamente amici si deve lo devo ricoprire anche dietro perché non è finito e vorrei mettere dei glitter qua sopra niente questa quindi è la nostra fragolina che è bellissima c'è stato proprio un makeover totale adesso quello che vorrei aggiustare tra virgolette perché voglio fare diciamo non tantissimo è questo che non so sinceramente ci penso vado però a modificare adesso questo questo qui mi piace ok ma è un po' anonimo secondo me ci vorrebbe comunque la cioccolata sopra ma fatta bene quindi prendo le mie puffy paint e inizio a colorare in maniera realistica sopra alla alla bibita al gelato quello che non lo so guardate come è diverso sembra proprio reale è proprio diverso raga cioè ha assunto proprio un altro aspetto allora questo non vorrei fare diciamo poi chissà quanto chissà che cosa più che altro vorrei mettere sopra gli sprinkles quindi adesso magari dove sta il cioccolato far cadere appunto gli sprinkles vorrei creare appunto un ciuffetto di panna una cremina appunto con questo e lo vorrei fare rosa quindi vado a fare così voilà vado a mettere sopra la ciliegina ce la vado a mettere sopra in questo modo direi che è già un passo avanti però questo qui ha questo logo che diciamo che è un po' rovinato io per coprire il logo dovrei ricoprire totalmente tutto lo squishy che è un po' complicato quindi io non vado a ricoprire lo squishy ma bensì preferisco fargli una faccina ecco qua ce l'ho fatta mi piace troppo anche se è stata comunque una modifica abbastanza semplice mi piace davvero tanto è diventato proprio un altro squishy c'è già con la panna con gli sprinkles cambiato totalmente faccia mi piace tantissimo no la linguetta non la voglio fare raga no mi piace così amici voi non avete idea qua sopra che macello che c'è fatemi sapere giù nei commenti qual è stata la vostra modifica preferita e niente mi raccomando lasciate un bel pollice in su per questi video se ne volete altri vi mando un bacione un abbraccione e noi ci vediamo domani alle 14 e 30 con un nuovo video ciao